insieme a me avevano sollevato questo problema. E non ci fermeremo qui, sicuramente non ci fermeremo qui. Non abbiamo altra scelta, questo è il nostro Governo e io credo che questo Governo, se è vero come è vero che ha messo a centro le politiche del Meridione e se quel luogo comune in cui diciamo tutti l'Italia parte e si riparte il Meridione, se è vero questo, se è vero questo allora Presidente, io credo che dobbiamo fare delle iniziative e nelle iniziative dobbiamo essere conseguenti con atti, azioni e interventi concreti. E quindi mi auguro che nei prossimi giorni avremo un incontro, incontreremo il Ministero, il Ministro, incontreremo se è caso anche il Presidente del Consiglio per capire effettivamente se vuole dare seguito agli atti di indirizzo di questo Parlamento, ma se vuole dare seguito alle parole che sta dicendo sul Sud e sul Meridione. Grazie Presidente. Grazie a lei. Passiamo all'interpellanza urgente numero 2.277 dei deputati Nesci ed altri concernente iniziative di competenza in ordine al Decreto numero 21.2016 del Commissario ad Acta per l'attuazione del piano di rientro e il disavanzo sanitario della Regione Calabria. Do la parola all'onorevole Nesci per illustrare la sua interpellanza. Grazie Presidente. Oggi parliamo del dramma della sanità calabrese davanti alla riduzione della spesa pubblica imposta da accordi illegittimi a partire dal Trattato di Lisbona. Il sistema privato dell'euro ha stritolato la sovranità degli Stati e quindi dei popoli. La stampa della moneta da parte di un'oligarchia di banchieri è la causa del debito pubblico, della crisi, dei suicidi degli imprenditori, dei disoccupati e di tanti padri di famiglia, purtroppo. La Banca Centrale Europea emette bigliettoni di carta guadagnando trilioni di euro a danno dello Stato e della collettività, che si indebita in cambio di nulla. L'unificazione europea ad oggi quindi si vede che era necessaria per questo imbroglio, da cui dipendono la chiusura dei tribunali, la riduzione della scuola a fabbrica di schiavi, di precari, le incredibili carenze d'organico nelle forze dell'ordine, l'ascesa di Matteo Renzi e la sua violenta, arbitraria riforma della Costituzione. Dalla truffa del debito pubblico, delle misure di contenimento e dai cosiddetti aiuti agli Stati europei derivano la soppressione dei posti letto negli ospedali, la calca di pazienti nelle corsie, i reparti e le strutture d'emergenza, i frequenti errori sanitari, l'impennata delle patologie e dell'insicurezza delle cure. A sud la situazione ovviamente è ancora più disperata, più cupa, più mafiosa. Le leggi sono carteggenica, le istituzioni spesso latitano, non vedono, non sentono, non parlano, ma vintingono il pane fino all'ultimo boccone. In Calabria lo sfascio è totale e questo il Governo lo sa bene. La sanità regionale mantiene tutti i mali riassunti nel 2008 dalla Commissione Ministeriale d'Inchiesta, Serrariccio. Lì, lo ribadisco anche in questa sete, si parlò di illegalità dilagante, di diffusa incapacità della dirigenza, sovente strumento della politica di commissioni e di clientele, quindi si tratta della penetrazione criminale. Il Governo commissariò la Regione per l'attuazione del piano di rientro del disavanzo sanitario avviato nel 2010. Il fondo sanitario è ripartito tra le regioni sulla base della popolazione, piuttosto che invece sulla base dei bisogni reali del territorio. Così la Calabria si trova ad avere dal 1999 ai nostri giorni qualcosa come un miliardo e settecento milioni in meno per la propria sanità. Si tratta di soldi spesi per curare pazienti cronici conclamati, diabetici, ipertesi, cardiopatici e così via. E da qui, quindi, l'indebitamento, cioè la Regione ha speso ma non ha avuto dallo Stato centrale, perché quei cittadini calabresi e quei malati esistono sul territorio. Ciò nonostante, per via di remoti meccanismi di dominio, accompagnati anche dagli strumenti dell'eurotruffa, come ho spiegato poco prima, il Governo ha obbligato la Regione al piano di rientro, che per la Calabria ha significato l'accensione di un mutuo trentennale col tesoro della modica cifra di novecento milioni di euro. Inoltre, un miliardo e cento milioni di euro sono usciti dai fondi FAS per coprire il debito di due miliardi. Quindi, in pratica, i fondi che erano destinati all'ammodernamento strutturale della Regione sono stati invece spesi per coprire un debito creato quasi a blocco dai mancati trasferimenti dello Stato centrale. La morale, quindi, è che la Calabria aveva un bel credito con lo Stato, trasformato poi in debito da un istituto inglorioso che si chiama accettazione servile oppure cannibalismo politico. Il grande piano di sempre, e quindi, come è stato detto più volte in quest'Aula, è mantenere il Sud nella retratezza, in modo da utilizzarlo solo ed esclusivamente come serbatoio di voti decisivi. Questo processo di sganciamento del mezzogiorno dal resto del Paese è stato accentuato dalla riforma del titolo V della Costituzione, che, col megafono leghista, ha introdotto il federalismo e dunque la gestione della sanità da parte delle singole Regioni. Il nuovo articolo 120 della Costituzione ha previsto la possibilità per il Governo di sostituirsi anche alle Regioni per la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, che sono una mostruosità giuridica ed un crimine ben celato rispetto alla tutela della salute sancita dall'articolo 32 della Costituzione come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Abusando di questo potere, cioè quello di sostituirsi alle Regioni, in violazione del Decreto-Legge numero 159 del 2007, convertito con modificazioni dalla legge numero 222 del 2007 ed anche in violazione della legge numero 291 del 2009, cosa succede? Che dal 2013 il Governo ha illegittimamente prorogato il commissariamento della Regione Calabria per il rientro dal disavanzo sanitario. Ciò dopo aver imposto un piano specifico al prezzo ovviamente di lacrime e sangue, infondato nella sostanza e contro i principi di diritto. In questo contesto si inserisce quindi la vicenda di cui oggi discutiamo. Nel febbraio 2013 l'allora primario della Cardiochirurgia Universitaria di Catanzaro, il professor Attilo Renzulli, denunciò un preoccupante numero di casi di sepsi batterica con diversi decessi. Scrisse all'azienda ospedaliera universitaria, al Dipartimento regionale per la tutela della salute, al Rettore dell'Ateneo e, tre mesi dopo, anche alla Procura della Repubblica. Spiego con chiarezza la mancanza di una terapia intensiva dedicata e che questa mancanza esponeva i pazienti a dei rischi gravissimi. Il primario fece il suo dovere e chiese con urgenza gli interventi del caso. Inconcepibile, prima che fuori dalle norme, che il paziente cardiochirurgico finisse una volta operato nella sala della terapia intensiva generale in compagnia di altri pazienti pur provenienti dall'esterno. Curiosamente, in tempi da record, l'Università e l'azienda ospedaliera collegata, che si chiama Mater Domini, sostituirono il primario Renzulli alla direzione del reparto. Per un malessere, il cardiochirurgo in questione fu ricoverato, attenzione alle date, il 4 marzo 2013. La sua nota risale invece al 5 febbraio 2013. Il 6 marzo il Renzulli fu sospeso dall'incarico di primario ed il 7 marzo la Scuola di Medicina dell'Università di Catanzaro propose il sostituto, indicando un docente non specializzato in cardiochirurgia. Proprio il 7 marzo, cioè lo stesso giorno, il Rettore e l'azienda ospedaliera deliberarono con propri atti. Quindi, dal ricovero alla sostituzione del Renzulli, passarono appena tre giorni. Forse una rapidità del genere, insomma, non si riscontra in tutta la storia del Paese. Successivi accertamenti sanitari dimostrarono che Renzulli era perfettamente in grado di lavorare, eppure ebbe il ben servito in un baleno nel mondo accademico. Allievo del noto Maurizio Cotrufo, Attilo Renzulli aveva operato in Kuwait e impiantato dispositivi di assistenza ventricolare proprio nella punta dello stivale italiano, nella stessa regione in cui per disorganizzazione e per mala sanità morirono nel 2007 i minori Federica Monteleone, Flavio Scutellà ed Eva Ruscio. Con conseguente ipocrisia della politica, emergenza sanitaria e centinaia di milioni di euro per nuovi ospedali ancora immaginari, due dei quali saranno realizzati da una società con i vertici arrestati per questioni di mafia. Calò il silenzio tombale rispetto al problema posto dal cardiochirurgo, cioè il rischio derivante dalla mancanza della terapia intensiva dedicata. Una commissione interna del Policlinico Universitario stabilì che le infezioni e i morti denunciati da Renzulli erano fisiologici. La Procura di Catanzaro chiese ed ottenne l'archiviazione sostenendo che quindi non si potevano configurare abusi o domissioni d'ufficio ai danni del Renzulli. Ma un approfondimento su quei decessi non arrivò mai più e non arrivò nemmeno la terapia intensiva dedicata. Il 13 luglio scorso, insieme al deputato Paolo Parentela, facemmo un'ispezione nel reparto del Policlinico Universitario, rilevando sul posto la mancanza della terapia intensiva dedicata, che è obbligatoria per la normativa regionale, presente nell'altra cardiochirurgia di Catanzaro, quella del privato Sant'Anna Hospital. Segnalammo riscontri al Direttore Generale del Dipartimento regionale per la tutela della salute, che in risposta inviò in copia una nota rassicurante del Commissario dell'Azienda ospedaliera universitaria, peraltro è egli stesso nominato in violazione della legge regionale numero 22 del 2010, che esclude dalla dirigenza i responsabili di disavanzo di bilanci. Visti i fatti inoppugnabili, la nostra insistenza consentì l'attivazione della verifica dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi della cardiochirurgia del Policlinico Universitario di Catanzaro. Correttamente cosa successe? Che il Dipartimento attivò la commissione dell'Asp di Crotone per l'autorizzazione e l'accreditamento, nel rispetto di un decreto commissariale, il numero 28 del 2010, che, accogliendo proprio un preciso rilievo dei ministeri vigilanti, incrociò le commissioni preposte alla verifica del possesso dei requisiti. Dalle verifica in parola, erano al corrente ovviamente tutti e da subito, dal dirigente dell'Asp territoriale di Catanzaro, fino alla struttura commissariale, incarnata dal commissario governativo Massimo Scura e dal subcommissario Andrea Urbani. Il 21 gennaio scorso, l'organo di verifica inviò all'Asp di Catanzaro il verbale degli accertamenti, chiuso il giorno prima. Sulla base della gravità dei riscontri, il 5 febbraio 2016, il dirigente dell'Asp di Catanzaro deliberò la proposta di sospendere le attività della cardiochirurgia del Policlinico Universitario Catanzarese. Tra l'altro, il verbale attesta, infatti, la mancanza della terapia intensiva dedicata, così come avevamo potuto vedere durante la nostra ispezione, e anche della seconda sala operatoria, del programma di controllo della legge nell'osi, della casistica degli ultimi cinque anni, della mancanza dell'indicazione del professionista di riabilitazione, nonché del numero legale minimo degli interventi e degli infermieri. Il 9 febbraio scorso il commissario ad acta Massimo Scura ha convocato per chiarimenti i dirigenti regionali interessati, il presidente della commissione di controllo e il commissario del Policlinico Universitario di Catanzaro. Subito dopo, insieme al subcommissario Andrea Urbani, Scura ha adottato un decreto con cui viene annullata l'intera procedura di verifica del possesso dei requisiti della cardiochirurgia in questione, sul presupposto, che, e questo si legge nel provvedimento, nel decreto del commissariale numero 21 2016, che Opelegis è provvisorio l'accreditamento della struttura in esame. A parte ovviamente l'errore macroscopico del decreto, adottato calpestando le disposizioni di garanzia contenute nella legge sul procedimento amministrativo, la numero 241 del 1990, nel caso specifico c'è proprio questo elemento insuperabile, Scura e Urbani hanno annullato un'intera procedura di verifica, confondendo la disposta verifica sul possesso dei requisiti con la verifica del mantenimento del possesso dei requisiti previsti dalla normativa. Con questo decreto, quindi, i delegati illegittimi del Governo hanno violato platealmente le norme di specie, cancellato una verifica di cui erano perfettamente al corrente, forse perché troppo scomoda. Arrivata dopo quasi tre anni dalle morti denunciate dal cardiochirurgo Renzulli, estromesso come abbiamo già detto. Aggiungo poi che l'azienda ospedaliera universitaria di cui parliamo riceve ogni anno 10 milioni in più dalla Regione Calabria, al di là della produzione resa e con un protocollo d'intesa scaduto dal 2008. Ciononostante, grazie alle evidenti complicità di cui ha goduto nel tempo, l'azienda non ha mai pensato di realizzare una terapia intensiva dedicata in cardiochirurgia, né la seconda sala operatoria. Stiamo parlando della stessa azienda che ha contribuito, tra l'altro, all'estinzione della Fondazione Campanella per la cura dei pazienti oncologici e che, nonostante le maggiori risorse percepite illegittimamente, risulta l'ultima in Italia per tempi di pagamento dei fornitori. Dei silenzi sulla gestione commissariale, quindi, sono complici i ministeri vigilanti che sono stati puntualmente informati da noi parlamentari del Movimento 5 Stelle e perfino con un dossier specifico e poderoso che abbiamo trasmesso nel luglio scorso prima del tavolo di verifica ministeriale. Quindi, finora, il Governo non ha fatto nulla, oltre che coprire, spostare il discorso, distrarre, tacere, difendere pezzi di potere è tutto un sistema in cancrena che ha causato anche la morte di quei minorenni. Adesso non potete più fingere né barare, quindi pretendiamo che già da oggi mandiate a casa i delegati scura ed urbani che sono responsabili del rientro sanitario della Calabria e pretendiamo che già da oggi interveniate per tutelare pazienti operatori della cardiochirurgia del Policlinico universitario, nonché per ripristinare la legalità che è stata calpestata e infossata in tutta la gestione della sanità calabrese. Grazie. Grazie. Grazie a lei. Il Sottosegretario per la Salute, Vito De Filippo, ha facoltà di rispondere. Grazie, Presidente. L'interpellanza dell'On. Nesci, che è stata presentata anche nella vastità degli orizzonti che sono stati descritti dall'On. Nesci, si concentra e ritorna, devo dire, puntigliosamente su una procedura che io proverò a descrivere e ovviamente a dare anche una preliminare opinione del Governo su questa complessa materia. Una procedura relativa all'accreditamento della unità operativa di cardiochirurgia dell'azienda ospedaliera universitaria Mater Domini di Catanzaro e pone una serie di osservazioni riguardo all'emanazione della delibera del Commissario ad Acta numero 21 del 10 febbraio 2016. Con questo provvedimento la struttura commissariale ha annullato tutti gli atti.